E ho capito però se devi andar piano Oh testa di cazzo ti arriva un ceffone Come una ticca, sei divertente Questo è Thomas Rekovic Oh certo, ascolti amore, hai detto che ti ricordi di qualcuno chiamato Thomas Was it Thomas Rekovic? Was he the manager here? I, I guess You think he stuck around? I'm not sure There was an old man here Very recently I think And you think it was Thomas? I don't know Old man, all look the same, all wrinkly and all bleh Hey, that's not very nice Well, if he's still around I've got an infestation to report Marianne, I feel Oh, I don't think we should be here It's okay, sadness Look, there's no one Here Sadness Vabbè Vabbè It all hit me as soon as I entered the room Anguish Fear Longing Qua c'è un riloggio a pendolo I could instantly tell there was more to that clock than met the eye Vabbè Serve una chiave abbastanza paresa, va bene Sarà qua dentro Poi c'è una finestra Cioè non una finestra immobile Grand opening, I assume Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place Oh Ah, ah Figures Grandi progetti There's got to be a way to power it up Dietro c'è qualcosa qui Esatto Detective paranormale Huh, the signature So he designed this whole place? Who are you, Thomas Reykovic? Chi sei, Thomas Reykovic? What the hell happened here? Effettivamente, raga My sense is jolted as I touched the phone All right, well, the ten-quattro, the tre-mezzo Non usare il telefono Ah, interessante Adesso funziona Alguien ha stato usato Cos'è? Una macchina Un flash di una macchina fotografica Una chiave Ah, che cazzo ne sai di quando è stato scritto? Stai dicendo? Non spegnere la sveglia, medicina Ricontrollare il percorso nella foresta Raggiungere l'hotel Buttare i vecchi documenti Proseguire la ricerca Sviluppare le foto Ricontrollare lo studio Controllare L Ti ricordi come si chiama il personaggio? Thomas No, io Cioè, lei Ehm Edien, Edien Di come tazzo Mi chiama Dien Merien, Merien Merien Sale Abbiamo buttato sale sul telefono Perfetto Un'altra porta Ma No, io Va bene, raga Andiamo ad aprire sto cazzo Ah no, devo Oh, va bene Comunque come tiene la luce nel taschino È Silent Hill Per Perfetto Uguale Ah, è una torcia Non una macchina fotografica Ah, ok Identico Qui c'è la roba dentro sto mobile che non possiamo azionare perché manca di allergia No, abbiamo Sì, ho capito, però fammi vedere il tizio qua No No Don't do it I can't We Must No Don't do it I can't We Must Baba We must Capito No 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 E dai Fa Ix I can feel Something's wrong It's coming It's coming Va bene Come Si, però prima fammi sentire lui Sì, però prima fammi sentire lui Sì, pensavo che ho avuto questa volta Mi ha dettagli molto molto Che ce l'ho perdita? Sì Perché che cazzo parla questo? Eh, da Spostandolo indietro Continuiamo a spostandolo indietro Mi pare che qua c'è un portale per... Ah, devo caricare questo? Vai, vai Ah, non ne ho? Non ho luce? E dove minchia rapiglio? Hai portato l'ologio lì indietro? Sì Hai aperto il passaggio? Sì Usa cerchio e fagli sta colpore No, ho capito Però quando sono dentro c'è un generatore Ah, ok Io sono dentro adesso, scusami Dentatore Ah, ora devo andare più indietro ancora Oh, oh C'è già un generatore Deve controllare i fini Sta a vedere che è rimasto bloccato come un piccio Ora c'è per caso della luce da assorbire Lo prendo come un no Continuiamo ad andare indietro Non c'è problema Bastava chiedere Non ho capito Non ho capito Va bene, vai, vai Caldi come dei boiler Ok, vediamo se funzionò Poi? Non mi ricordo cosa Ah, forse c'era un pulsante qua Esatto Vai Sì, ancora Beppe Sì, 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 c'era ancora Non so perché Sono stati degli attimi particolarmente Sì, sono ancora cercato come attivare la luce Vabbè, raga Anche meno Nel senso Non mi sembrava Allora Va bene Qua ci sono delle foto da sviluppare Ok Fixa Ah, eh Mo ce li ricordiamo i tempi Erano 5333 Sì, erano 5333 Allora Allora Stiamo calmi Ho un fluido su tre Due fluidi su tre Reprimere il soprannaturale Reprimere Ho potuto sentire qualcosa di stirre dietro questo simbolo Come un vento di vina muovendo una cortina Sta diventando più forte Sento che sta uscendo Si insinua nella mia mente Vuole uscire Non può uscire Non glielo permetterò Troverò un altro modo Questa è evocato Satana è evocato Maleficarnum Il martello delle streghe Eccolo qua Multigrade Qua cosa c'è? Ok Niente Beppe Ti sento particolarmente morto No no perché sto Sto ancora cercando di Accennare l'energia in quella stanza Devo ancora tornare indietro con l'orologio immagino Guarda qua Ah si sei ancora lì? Io sono avanti qua Tanto qua anche se ti dimenticavi Come sviluppare le foto Te lo rispiegava Quindi è abbastanza paracure Spero che alle 7 si richiude la porta Io non ci posso più entrare E poi ti torna tutta a merda Allora Va bene Qua ci ficchiamo Come si fa? Eh no Tua madre Vabbè si In realtà ho fatto giusto Come guardo i miei oggetti Esatto Vedi Lo stop E qua Il fissante Va bene Attenzione però Io ce l'ho una foto da sviluppare Sì Carta fotografica Ficca sta carta Ok E va bene Ok Io ho paura Perché poi I secondi Li conto in una maniera Che ne so che il gioco Li conta la stessa maniera Ok Però penso sia tutto Abbastanza giusto Chiedere il Dixon Sembra Partito un video Penso di aver fatto giusto Eh lagga un po' di più Oh shit Eh Gesù Cristo Allora Cosa 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 è questo? Beh pensi di farlo vedere anche a me O cosa stiamo Ah ecco Tutti in via Quindi Che cosa cazzo che è Fauci Quindi Ti sembra Non guardare raga Cazzato come i mostri Con l'audio in ritardo Bello Cosa devo fare? non vai non livi non livi solo nudo ma perchè sei un aspetta non penso proprio zio ehi di qua non preoccuparti sei proprio sono della misura perfetta raga e adesso dov'è raga ma come si faceva non ho capito corri 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 non vai oh di me non mi lasci solo nudo ma sei lenta sei lentissima tutto finisce in me tutto finisce in me non un fan di luce eh? beppe ma sei indietro? si 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 sei indietro ma cazzo si si sei indietro ci ho messo un attimo sono perso sul discorso dell'orologio adesso sto facendo una foto era una stronzata no no eh lo so dovevo tornare indietro cioè dovevo mandare le lancette indietro poi a un certo punto ho detto ma sto andando troppo indietro mi si chiudeva la foto guarda io devo fare pausa tanto t'aspetto un attimo di pausa boh allora io sono qua ho assorbito la luce ok e si fa come si fa a essere furtivi? con...divi schiacciare le le tre bastava chiedere occhio se ti prendo una volta tu hai il bonus di usare la luce in faccia poi però non ce l'hai qui no 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 dov'è? dove è? però io non posso andare da nessuna parte ragazzi ok ok bravo eh fare in cura piccio ma sto coso è tipo cioè è margherita q questa roba qua dentro e fuori dentro e fuori dentro e fuori dentro e fuori no fa provo a fare in cura pifo oh mi si materializza alle spalle di la verità che sta per succedere quello ma sia felice come sei felice tu ti prendi tu ti prendi nooo 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 Ecco ma se ti levi anche dal cazzo Bravo Continua a spaccare il cazzo per di là Urco di cazzo Ok Gira No No raga è un problema Sei happy Però abbiamo un problema Mi hai visto? Lo prendo come un sì? Io me ne vado Schiaccialo Schiaccialo Fa corri Ok Ma posso Qua è pieno di cristiani morti Io sono scappato Adesso devo passare in mezzo Allo stormo Anche è un buon modo Per spegnere Qua è pieno di cristiani Qua è pieno di cristiani A me lo chiede X Ah ma tra l'altro siamo solo Più nel mondo Nel mondo Sì, spirituale Sotto sopra qua Partito un video, sì Adesso sbuca dall'altra parte Dio Eh però già fa Eh Hai visto e forse ce l'hai fatta Ho spento la mia tutta la vita Guardando sui occhi della nostra realtà Sabat I saw things that would break a grown man Eventually I grew into it It became my normal Oh C'è una mezza farfalla al collo Una collana con una mezza farfalla Comunque dopo che finisce il video Che finisce di parlare eccetera È il buon momento per Rami Boh, perfetto Ovvio anche a livello proprio di C'è quello lì C'è quello lì E' il nostro Nemesis Porca troia Eh wake up Dove è r***a Invece di darmi la mano Marianne Poi quando Finisce il video Vai nel menù C'è A il menù C'è parlo Dopo il salto Dalla radio Si sentono suoni sinistri Adesso io non sono andato lì E cosa devo guardare nel menù Cioè riprendi impostazioni Carica menu principale Mi ho fatto il menù principale Ah boh E devo guardare qualcosa lì No 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 Tu fai il menù principale Esci proprio Tanto io Tanto lì salvo Ti hai salvato meno di un minuto fa Ma pura te Ti hai cambiato il menù Non era così prima Te lo dico tra un attimo Non era così prima Certo Ci sono delle persone tipo Sì sì Ci sono delle persone Che twitchano lì Esatto Sì sì Con un altare della luce Sì 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 Lagga tutto Malamente Lagga Lagga Sai da dove capisci che lagga Dalla luce Esatto Lì che è fatto Che un po' va più veloce Un po' va più piano Non capisco questa cosa Perché la tengo Così comunque Lagga tutto Va bene Devo fare un aggiornamento Sì Niente Quindi per stasera Vogliamo fermarci qua Un buon momento Di fermarci Sì 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 Perché poi intanto io domani lavoro Quindi Bo 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 Interrompi la registrazione Abbiamo fatto Abbiamo fatto un bel po' di strada Però Sì io qua sto dando per scontato Che stia sempre andando tutto bene Che le voci si sentano bene Oh male che vada è andata così Non ci sarà Non male che vada Non ci sarà una serie Su The Medium Che le voci si sentano bene Bleh Che le voci si sentano bene